Ciao, sono Elisa Longato, io mi occupo di design e direzione creativa e per chiudere in bellezza spero questo freelance camp vi parlerò appunto di personal branding. Allora, io non mi occuperei nello specifico di branding, quanto piuttosto della fase che arriva subito dopo il branding e cioè la trasformazione del branding in strategie visive. Ma ho deciso di parlare lo stesso di branding perché trovo che sia un aspetto un po' troppo trascurato, ecco, almeno questa è la percezione che ho io quando parlo con i miei clienti che sono anche liberi professionisti. Allora, quando vengono a chiedermi di progettare una strategia visiva o un'identità visiva tutti vogliono il sito figo, il logo bello, però in pochi in realtà hanno ben chiaro qual è il messaggio che esattamente vogliono trasmettere. Allora, succede che quando poi cerco di indagare vado a fare delle domande per entrare un po' più nello specifico per approfondire la questione quindi vado a fare domande sul loro personal branding, spuntano fuori sguardi sbigottiti cose di questo tipo e chiaramente non se ne va fuori. Allora, sicuramente questo non è il vostro caso voi sapete benissimo che qualsiasi tipo di strumento, di immagine che si produce a livello di identità è il frutto, o meglio l'espressione, di una strategia e di decisioni che vanno necessariamente prese a monte. Costruire un'identità di brand è un po' come costruire un edificio per poterlo costruire servono delle fondamenta solide e tanto più si vuole salire in alto e tanto più questa base deve essere ampia e scendere in profondità. Ecco, e anche se noi siamo qui insomma un po' a fare i figli di fiori sotto la pineta che è molto bello, però alla fine quello che facciamo anche noi è business, ok? con delle dinamiche sicuramente diverse da quelle di un'azienda, però dobbiamo imparare a costruire anche noi il nostro brand. Allora, il processo di costruzione, o meglio la differenza tra branding e personal branding sta chiaramente nella variabile persona. Noi freelance generalmente vendiamo servizi, ma assieme ad essi vendiamo noi stessi, o meglio vendiamo, come diceva Roberta prima, in qualche modo una relazione. E allora questo fatto di vendere una relazione, cioè il cliente prima ancora a volte di scegliere il servizio, sceglie la persona con cui vuole entrare in relazione. Il fatto che sia una persona talvolta è un valore aggiunto rispetto a un'entità astratta, come potrebbe essere l'azienda o anche l'agenzia, in realtà non sai mai veramente con chi stai parlando. Poi a volte cercano un freelance perché pensano che costi di meno, ma quello è un altro discorso. Quindi dicevamo che la variabile persona è la determinante di tutto il processo di costruzione del brand. Come si costruisce un personal branding? Chiaramente non si può fare in 20 minuti. Io quello che vorrei lasciarvi oggi è una sorta di checklist con quelli che secondo me sono gli aspetti proprio base, la base della base, su cui bisogna partire per costruire un personal branding efficace, insomma quantomeno un po' solido. Parto però con due premesse, cerco di andare veloce. La prima è, voi non siete il vostro brand. Ma come mi hai appena detto che il personal branding è costruito sulla persona? Allora, riformulo. Voi siete molto di più del vostro brand. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un professionista e poi c'è una persona che possiede una sfera di cose, interessi, passioni, caratteristiche molto più ampia di quella che ha l'aspetto professionale e per produttura? Oserei dire. Allora io l'immagino un po' come il brand, come una sorta di appendice di noi stessi. Io me l'immagino un po' così. Tipo bubone. Chiaramente se non facevo i disegnini non ero felice. Ok, questo perché ci serve? Vedere il brand come un'estensione di noi stessi e non come la totalità di noi stessi. Da un lato ci serve a mantenere uno sguardo un po' più oggettivo e distaccato che è sempre molto difficile quando si lavora su se stessi. E dall'altro lato ci aiuta anche a limitare un po' l'ansia legata alla scelta perché qualsiasi tipo di personal branding ma nel lavoro in generale siamo chiamati a fare delle scelte e quindi a prendere qualcosa e a scartare qualcos'altro. E questo spesso genera una sorta di senso di perdita, di indecisione. Oddio adesso mi perdo qualcosa. In realtà se noi capiamo che noi non siamo il nostro brand o meglio il brand è qualcosa di diverso da noi anche se scegliamo e rinunciamo a qualcosa in realtà non siamo veramente rinunciando a niente. La seconda premessa è che il personal branding non è per sempre. Allora adesso non è che abbia proprio una data di scadenza come il latte però come il latte ogni tanto andrebbe annusato. Voi sapete benissimo che la data di scadenza nel latte non serve a niente perché il latte si annusa e si capisce se è buono. Quindi noi proprio in quanto persone continuiamo ad evolvere e continuiamo a cambiare e ogni tanto, anzi più si fa e meglio è, è meglio capire se siamo ancora allineati veramente con il nostro personal branding. Allora adesso le mie slide saranno interattive nel senso che le scriverò e possiamo partire con la checklist. Allora, al primo punto, proprio la base della base, vi dicevo, abbiamo chi, cosa, dove, come e perché. Ok? Vabbè, così sono tutto tipo di domande. Questo speech, come avrete capito, non vi darà nessuna risposta ma vi lascerà un sacco di domande. Allora, chi, come si chiama il vostro brand? Ok, perché non è detto che voi usiate nome e cognome, magari usate solo il nome, magari usate solo il cognome, magari usate un nome di fantasia, come faccio a dire. Il chi è quello che va sul logo, per capirci, ok? È la ragione sociale che userebbe un'azienda. Cosa? Chiaramente cosa è, cosa fate e di cosa vi occupate? Però, vi prego, chiedetemelo due volte, cioè, rispondete una prima volta e poi chiedetevi di nuovo, ok, ma cosa faccio? Esattamente. Vi faccio un esempio. Io ho un'amica, sto per andare in iperventilazione, io ho un'amica che fa la psicologa e lei chiaramente si presenta, anche a me si è rappresentata come psicologa al tempo. Poi ho scoperto, indagando un po', che è una psicoterapeuta specializzata nell'accompagnare le coppie nei percorsi di fecondazione assistita. Estica. Cioè, c'è un po' di differenza, no? Ecco, quindi, sul cosa scavate a fondo? Un piccolo esercizio che si può... beh, qui ci potrebbe stare per dire il titolo che vi date oppure il payoff che va sotto il logo, ok? Il payoff è quella scrittiva, tipo Nike Just Do It, ok? Just Do It è il payoff. Allora, perché noi non possiamo avere un payoff? Allora, esercizio che si può fare? Cercatevi un titolo serio, psicoterapeuta, web designer, non so, quello che volete, e poi provate a darvi invece, a inventarvi un titolo creativo, un titolo di fantasia. Come si potrebbe fare? Magari cercando delle connessioni, anche, sì, veramente cappate per aria se volete, delle connessioni magari con qualcos'altro che vi piace e che sapete fare bene. Esempio, non me lo sono preparata però, vabbè, me lo invento. Io sono un pittore, faccio dipinti e mi piace fare surf, visto che siamo al mare, ok? Allora, magari comincio a pensarci un po', faccio un po' di brainstorming e potrei fare surf, tavolazzo surfer, non lo so, ok? Quindi un esercizio un po' carino è questo. A cosa serve? magari non vi servirà niente, non diventerà mai il vostro titolo, però vi potrebbe accendere qualche lampadina o qualche connessione, qualche idea un po' diversa per sviluppare delle proposte e delle offerte. Il dove, è chiaro, vabbè, adesso il dove, lascio un po' il tempo che trova comunque. Il dove è dove svolgiamo effettivamente il nostro lavoro. Questo serve più che altro a voi per stabilire un'offerta e anche un workflow e anche per impostare la vostra comunicazione. Se voglio fare il nomada digitale sicuramente poi svilupperò la mia offerta su determinati canali piuttosto che altri. E chiaramente se non ho un ufficio non ho bisogno di mettere un indirizzo nel biglietto da visita, per dire. Come? Il come qua non approfondisco troppo perché è esattamente come fate il vostro lavoro, come ognuno di noi svolge il proprio mestiere. Però qui ci sta, non sottovalutatelo perché è quello che spesso ci differenzia dalla cosiddetta concorrenza. Quindi qui se andiamo a indagare capiamo quali sono le caratteristiche che, con le quali noi facciamo il nostro lavoro magari in modo particolare. Non ci perdete neanche la vita per favore perché ho visto gente arenarsi in modo drammatico in questo punto perché cazzo rollo finché non trovo qualcosa che mi distingue da tutti gli altri non vado avanti. Può darsi che ci sia se avete qualcosa, qualche caratteristica molto speciale bene, se no vi rende speciale il fatto che siete voi a farlo piuttosto che qualcun altro. Sicuramente siamo in N1000 e qualcuno farà le cose in modo simile a me o a chiunque voi. Il perché ci fa scivolare direttamente, scusate, nel secondo punto, ossia la mission. Allora la mission si potrebbe tradurre, sintetizzare con perché fai quello che fai o per dirla in modo un po' più aulico perché quello che fai migliora il mondo. Ora non è obbligatorio avere una mission e non è neanche obbligatorio a voler migliorare il mondo. Infatti c'è gente che se ne sbatte alla grande e però vive serenamente lo stesso. Però io credo che ci siano tanti, soprattutto tra i freelance, chi ha deciso di fare freelance, che ha delle velleità un po' più ampie del semplice di diventare ricco che per carità tanta stima. E quindi capire qual è effettivamente la nostra mission in questo pezzettino di mondo può essere una forte leva motivazionale per spenderci e soprattutto per comunicarci perché capiamo bene che tutto sto lavoro lo facciamo per noi ma poi lo facciamo anche per riversarlo sul mercato, cioè per comunicarci. Allora una buona mission è chiara, sintetica, positiva e attuabile, realizzabile per ciascuno di noi, insomma ognuno ha la sua. Allora se qualcuno di voi ha già provato a fare questo esercizio, cioè ad individuare la sua mission saprà che non è proprio così banale trovare una mission veramente calzante e che ci sentiamo bene addosso. Allora un esercizio, che li chiamo esercizio, ma insomma un modo che io trovo utile per approfondire questo tema è quello di porsi diciamo lo stesso tipo di domanda però con sfumature un po' diverse, per esempio io le leggo perché non me la ricordo. Qual è lo scopo del mio lavoro? In che modo il mio lavoro è utile? Cosa mi rende orgoglioso del mio lavoro? Perché il mio lavoro mi piace? A parte quando fatturo. Perché quello che faccio è importante? Che cambiamento produco col mio lavoro? Ok, se vedete sono tutte domande abbastanza in linea ma che declinano il concetto in modo un po' diverso. Allora cercare di rispondere in modo puntuale a queste domande magari può far emergere dei punti di vista o dei dettagli o degli aspetti che finora avevamo un po' trascurato. Allora alla fine del primo di questo secondo punto dovremmo avere tutti gli elementi necessari per andare a costruire la nostra frase mission che potrebbe assomigliare a una cosa di questo tipo. Sono pinko pallo, mi occupo di pettinare le bambole perché per me è importante avere giocattoli ordinati e aumentare la loro autostima attraverso l'air styling. Ok? Questa è un po' la costruzione standard di una frase mission però io credo che effettivamente la mission sia una cosa così personale anche così intima talvolta che a ognuno se la può formulare un po' come cacchio gli pare. E b non è neanche così necessario sbandierarla ai controventi. C'è chi dice ma la mission mettila sull'home page del tuo sito, lilla tutti, lilla almeno 10 persone ogni settimana, non so cose di questo tipo. Ma anche no, insomma l'importante di una mission secondo me è che sia di ispirazione per voi e che sia coerente con voi. Ok, tutto il resto è fuffa, è un plus. Allora, numero 3 numero 3 è la motivazione o meglio, motivazione, anzi motivazioni. Se la mission era qualcosa di rivolto verso l'esterno quindi che guardava il mio cliente anche un aspetto un po' diciamo così nobilitante del mio lavoro, la motivazione è il corrispondivo che però guarda verso me stesso. Quindi in qualche modo i motivi egoistici anche un po' pratici per i quali ho scelto di fare quello che faccio da freelance oserei dire. Quindi la domanda è cosa ci guadagno a fare quello che faccio da freelance nel nostro caso? Cosa ci guadagno non in termini economici chiaramente perché quello è scontato, insomma che qualcosa ne ricaviamo fuori. E qui ci stanno tutte cose anche molto pratiche, molto concrete della serie. Ah sì, faccio il freelance perché così posso lavorare quando voglio e mi gestisco i figli. Oppure cose del tipo sì perché così posso scegliere io i clienti con cui voglio effettivamente lavorare fino a ragionamenti anche più articolati. Allora qui l'esercizio è quello di trovare almeno 10 motivazioni per le quali fate quello che fate da freelance. Motivazioni egoistiche, proprio rivolte verso voi stessi. Allora le prime due o tre in genere vengono abbastanza automatiche, poi per avere le altre bisogna sforzarsi un po', ma dopo che si è preso il via vi assicuro che è molto facile trovarne ben più di 10. E a me ha sorpreso quando ho fatto questa cosa su di me, mi ha sorpreso scoprire che in realtà quelle più pratiche, tipo poter organizzarmi le ore di lavoro quando volevo o lavorare dove mi pareva, insomma, in realtà non erano poi quelle più importanti, cioè quelle che effettivamente mi spingono a perseverare in questa strada piuttosto che mandare tutto il diavolo e cercarmi un lavoro da dipendente. Per esempio, vi faccio un esempio sempre che riguarda me, io mi annoio da morire a fare sempre lo stesso lavoro, io se devo immaginarmi andare sempre nello stesso ufficio, magari in un'azienda per n anni della mia vita tutti i giorni, mi sento soffo, mi sembra di avere otto mascherine e altro che una. E questa è una delle cose che effettivamente mi fa continuare a scegliere questa strada piuttosto che un'altra. Ecco, questa per dirne una. Ok, allora al numero 4 abbiamo invece un'altra cosa importantissima e cioè i valori. Allora, i valori cosa sono? I valori sono i principi cardine sui quali si muove il vostro lavoro. Stabiliscono, come dire, dei criteri imprescindibili sulla base dei quali prendete delle scelte professionali, chiaramente, sulle quali strutturate per esempio la vostra offerta e la vostra comunicazione. Ora, a livello di personal branding i valori del brand sono chiaramente strettamente legati ai nostri in quanto persone, però qui torniamo al discorso di prima. È probabile che non tutti i valori che ci appartengono come persona siano poi interessanti o utili a livello professionale o di brand. Quindi qui si tratta di fare una scelta ma non un'esclusione per noi. Dobbiamo decidere che cosa far andare qui dentro, nel nostro bubbone brand. Allora, come trovarli? Innanzitutto prendendosi del tempo. Secondo me non va bene prendere i primi valori che vi vengono istintivamente perché non è detto che siano quelli effettivamente più utili al brand. Allora, io consiglio di fare così, cioè fare una lista proprio a ruota libera di tutti i valori che voi come persona sentite vicini, sentite rilevanti, senza preoccuparvi di quale viene prima e quale viene dopo. Una volta fatto questo brainstorming, chiamavolo così, selezionatene i dieci, i dieci più importanti per voi come persone e li mettete in un ordine di priorità, quindi dal più importante al meno importante. Una volta che avete questa lista ne scegliete tre, massimo cinque, perché è sempre difficile, ce ne ne sono tre, però io vi consiglio tre perché il nostro cervello, pur essendo una macchina complessa, preferisce le cose semplici. I tre che in questo momento per voi sono più utili, più autentici, più adatti al brand e sulla base di quelli andate a costruire per esempio la vostra comunicazione, le vostre offerte. Spoiler, i valori cambiano, come dicevo prima, è una delle cose che cambia non tanto perché se siamo, che ne so, se per noi è importante il valore della sostenibilità, fra un anno non lo sarà più, ma può essere che qualcos'altro andrà a sostituirci, proprio nella scala delle priorità, un valore scenda e altri salgano. Quindi soprattutto su questo è veramente utile fare un check-up costante. Ok, al numero cinque, stiamo andando anche abbastanza veloci, al numero cinque ci sono le emozioni, in realtà emozioni prima parte. Allora le emozioni, per emozioni si intende tutte le emozioni, ma io dico emozioni ma possiamo metterci dentro anche sensazioni, suggestioni che vorremmo venissero associate al nostro brand. Le emozioni sono diverse dai valori, i valori sono dei principi di condotta, quasi oserei dire, che guidano le nostre scelte e quindi sono rivolti verso di noi. Il personal branding, non so se avete notato, è tutto un continuo passarsi la palla e cambiare il punto di vista dall'esterno all'interno. Quindi se i valori coinvolgono principalmente noi e quindi le nostre scelte, le emozioni sono più rivolte verso il cliente o potenziale cliente, è quello che noi vogliamo far percepire attraverso il nostro brand. Quindi se parliamo di identità visiva, l'emozione è uno stato dell'essere o comunque una suggestione, una connessione mentale che noi andiamo a creare attraverso la nostra identità visiva, il nostro logo, i colori che usiamo, i font, il tono di voce, lo stile, bla 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 bla. Allora vi dicevo, non deve essere per forza un'emozione in senso stretto, per esempio una mia cliente una volta facendo questo esercizio mi ha detto io vorrei che la mia identità venisse percepita rock, ok? Non è un'emozione, è uno stile musicale però si capisce il sentimento che si vuole suggerire. Allora, anche qua l'esercizio è fate un brainstorming di tutte le emozioni che vi piacerebbe che i vostri clienti o comunque che un potenziale target associasse al vostro brand, di queste sceglietene tre. Tre sulla base delle quali costruire o andare a costruire la propria identità visiva. Un altro esercizio che si può fare è la mood board delle emozioni, quindi usando strumenti o digitali come Pinterest oppure anche i tradizionalissimi collage, riviste eccetera eccetera, andare a cercare posso scusarmi qua, scusate perché? Andare a cercare tre immagini per ogni emozione che per voi rappresentano molto molto bene l'emozione che volete descrivere. Ora non preoccupatevi che quelle immagini siano perfette per tutti, per chiunque, perché è chiaro che ognuno di noi siamo tutti diversi, ognuno si fa delle rappresentazioni, soprattutto delle emozioni differenti. Quello che vogliamo cercare è una rappresentazione assolutamente perfetta di quell'emozione nel vostro stile, perché poi è quello che andrà comunicato. Se proprio mi piace questa cosa della mood board, oltre alle emozioni potete metterci i valori di prima, quindi cercare tre immagini che rappresentano bene i valori che avete scelto. Una volta che avete la vostra bella bacheca di Pinterest piuttosto che la vagnona di sughero, provate ad andare a vedere se ci sono dei colori o degli elementi che ricorrono, che si ripetono e magari provate a pensare se ci sono, come potreste integrarle nella vostra identità visiva. In alternativa, ultimo spunto, si può pensare di associare a ogni emozione un colore, secondo magari la teoria dei colori. Anna Turchato aveva fatto uno speech qualche anno fa proprio al freelance camp su questo argomento, però trovate un sacco di risorse in rete che parlano della psicologia dei colori. Anche qui comunque l'invito è quello di scendere in profondità, quindi una volta che avete associato all'emozione o alla sensazione, insomma, una famiglia di colori, domandatevi esattamente quale sfumatura di quel colore rappresenta per voi l'emozione, quindi in modo da individuare un colore preciso. Allora, numero 6, stiamo finendo, abbiamo ancora le emozioni, quindi emozioni, seconda parte. Ancora una volta, se prima le emozioni erano rivolte, guardavano al nostro cliente, torniamo a guardare a noi, perché è sempre importante trovare la sintonia fra il dentro e il fuori. Quindi non domandiamoci più che emozioni vogliamo far provare al cliente, ma domandiamoci che emozioni vogliamo provare noi. Quali sono le tre emozioni a cui non vorreste mai rinunciare quando fate il vostro lavoro, che per voi sono assolutamente indispensabili per essere felici quando lavorate. È chiaro che non è che le proverete sempre, però già solo il fatto di averle individuate vi aiuteranno a trovarle più spesso, come quando si vuole comprare un modello di macchina e poi si comincia a vederla dappertutto, vi è mai capitato? Perché il nostro cervello comincia a essere focalizzato su quella roba lì, e quindi comincia a cercarla attivamente e quindi la trova. Si spera, questo è il concetto. Ok, allora qua l'esercizio è un po' al contrario, provate a immaginare o comunque a ricordare, a fare una lista di tutte le cose, le situazioni, le attività nello specifico che vi fanno provare queste emozioni nel vostro lavoro e cercate di essere più precisi possibili. E poi pensate, fate un'altra lista di quali sono invece le situazioni, le cose, le circostanze che vi fanno provare l'opposto o che comunque vi mettono a disagio. Anche qui il concetto è sempre quello, il fatto di individuarle dovrebbe aiutarvi a formulare o a riformulare le offerte, il vostro modo di lavorare eccetera eccetera sulla base di questo, quindi proprio di andare a cercare sempre di più quello che vi fa stare bene e sistemare, aggiustare quello che invece non sta andando. E quindi potremmo andare per esempio a rimodulare l'offerta o a selezionare meglio i nostri clienti, in ogni caso a stabilire le nostre regole. Allora anche qui non è indispensabile avere delle regole, qualcuno parlava, cioè si è parlato parecchio di libertà in questi giorni e dice ma che cavolo ho fatto il freelance per altre libri, adesso mi devo pure imporre delle regole. Le regole hanno senso se sono utili a voi, al vostro lavoro e soprattutto se vi fanno ritrovare sempre più spesso quelle emozioni positive di cui abbiamo parlato al punto precedente. Sta a voi stabilire le vostre regole e a decidere come farle rispettare da voi, dai vostri clienti e dai vostri collaboratori. L'importante è che una volta stabilite, le rispettiate e siate coerenti con loro e soprattutto che le comunichiate, se ve le tenete per voi, come potete pensare che qualcun altro le rispetti. Faccio un esempio, possono essere regole pratiche o regole un po' più auliche, adesso non c'è una discriminante. Esempio, se io decido che non voglio ricevere le telefonate di lavoro dopo le 6 o le 7 o nei weekend, benissimo, ma poi non mettermi il numero di telefono nel biglietto da visita, ok? Non mettere il numero di telefono a carattere cubitali nel tuo sito, perché non puoi comunicare una cosa e poi pretendere che il cliente rispetti è una regola che non conosce, ok? Altro esempio, se io decido che per me è importante come regola non accettare o meglio lavorare solo con clienti che sono allineati con i miei valori, benissimo, lo so, ho chiuso, però quando mi arriva magari la richiesta di lavoro dal cliente superfacoltoso che però è totalmente disallineato con me, non ci sto neanche lì a pensare, gli dico di no, che so che può sembrare un'eresia, però vi assicuro che tanti ne hanno parlato in questi giorni. Saper dire di no a volte intanto accresce la vostra, non vi fa perdere tempo, punto primo, accresce la vostra coerenza e quindi anche vi fa sentire più forti e soprattutto scusate non mi ricordavo, accrescerà la vostra autorevolezza nei confronti dei clienti che sono invece in target con voi. L'ultimo punto, e poi ho veramente finito, è solo un accenno perché non ci sarebbe proprio il tempo di svilupparlo, richiederebbe un talk a sé, è la sesta voce del primo punto. Abbiamo parlato di chi, cosa, dove, come, perché, ci siamo dimenticati del per chi. Quindi il per chi potete chiamarlo cliente ideale, potete chiamarlo buyer personas, potete fare la mappa dell'empatia, ci sono mille modi per affrontare l'argomento cliente, chiaramente non lo faccio. Vi lascio solo un'ultima domanda, un po' provocatoria però, non vi darà una risposta ma probabilmente vi aiuterà a trovare la direzione verso cui guardare e cioè, con chi vorreste veramente lavorare o meglio, con chi sareste disposti a lavorare anche gratis. Ho finito, non fatelo, è l'unica cosa, non lavorate gratis.